Abbiamo fatto benissimo, secondo me, gestita alla grande, come dovevamo fare ad Ascoli e non lo abbiamo fatto, abbiamo fatto questa qua. Come ti dicevo prima, una squadra che ci tiene tanto il risultato, si vedeva che volevano tentare tutte quante le alternative, però siamo stati lì dietro, ripartivamo, secondo me siamo stati anche più pericolosi di loro, perché qualche ripartenza potevamo fare anche il quarto gol. Però è andata così, secondo me è bene che non abbiamo subito gol e è bene anche che ne abbiamo fatti tanti. Insomma, giocate, vincete e vi divertite anche, che è la cosa più importante. Sì, quando c'è entusiasmo e uno si diverte, si corre di più e si fa meno fatica e di solito le cose girano molto meglio anche, perché quando uno pensa in positivo e si diverte, la ruota sempre gira per il verso giusto. Io penso che le altre partite che ci hanno recuperato magari non era un problema fisico, era una cosa mentale che... E oggi abbiamo dato una prova di maturità, è importante giocare così, soprattutto quando andiamo in vantaggio e niente, abbiamo fatto una grandissima partita e una prova di maturità che ci serve per migliorare in futuro.